Buongiorno, ben trovati all'appuntamento di Buongiorno, ben trovati all'appuntamento di giovedì 22 marzo con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa, apertura come sempre dedicata alle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, iniziamo con il centro, partiamo dalla cronaca di Pescara, dall'edizione di Pescara, in particolare si parla di Tari, Tari più cara, partono le bollette, inviati 70 mila avvisi per la tassa su rifiuti, la prima rata scade il 31 marzo, in alto a 24 e a 25 allarme per la sicurezza e 700. Di lavoro il Cipe non sblocca i fondi dei cantieri e poi rifiutopoli, vedete questo titolo in alto, Venturoni di Stefano e di Zio assolti dopo 8 anni. Andiamo a centro pagina, la fotonotizia riguarda la cronaca, Montesilvano, incendio tra le abitazioni, devastato un deposito, rogo la notte scorsa a Villa Verlengia e poi le cronache, l'omicidio neri, una 500 rossa filmata dopo il delitto. Andiamo poi più in basso, classifica nazionale, Montesilvano tra le 15 spiagge più belle, poi Manoppello, l'autovelox fa scappare gli autisti dei bus. E poi si parla anche di politica nella prima pagina del centro, politica a Gerosolimo, gela tutti, no a Lolli, no a Pagano, no al centro-sinistra, no al centro-destra, da parte della lista civica capeggiata dall'assessore regionale. E poi alla scoperta dei luoghi più belli d'Abruzzo, ecco le 49 meraviglie della nostra regione. Lasciamo la prima pagina del centro di Pescara, vediamo quella di Chieti Lanciano Vasto, il titolo di apertura riguarda i contributi per la casa, quattro condanne Chieti ex dipendenti comunali sotto accusa, domanda falsificata per favorire la figlia di una funzionaria. E poi a centro pagina la scoperta, l'università d'annunzio di Chieti, un farmaco antitumori inventato proprio all'università. E poi le cronache, ci spostiamo nel Vastese a Cupello, trovata morta in casa dopo tre giorni. Poi più in basso Chieti, Paolucci, l'assessore regionale alla sanità, nuovi posti letto all'ospedale di Chieti. E poi Frisa, droga nascosta in cameretta, arrestata una ragazza. Andiamo a vedere la prima pagina di Teramo del centro, il titolo riguarda Rifiutopoli, assolto Venturoni, questo è il titolo di apertura. L'ex assessore regionale scagionato dopo otto anni insieme agli altri imputati. Vediamo più in basso la notizia che riguarda, non bella, che riguarda il calcio di Serie C. Il Teramo battuto nel recupero ieri nel turno infrasettimanale a Bolzano, in casa dal Sud Tirol. Dunque una sconfitta bruciante per i biancorossi. Il gol degli altoatesini è stato segnato da Sgarbi al 92esimo. Andiamo a vedere anche le altre notizie, poi nell'ultima parte di Mattino 6 vedremo anche il servizio su questa partita. Le cronache, conti svuotati, patteggia la bancaria alla BNL di Teramo. Poi Alba Adriatica, quarantenne, si accascia e muore in strada. E poi Roseto, Mariana Legale, sequestrata in una tabaccheria. Siamo alla prima pagina del centro di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Cementificio ora indaga la procura. L'Aquila al vaglio dei carabinieri forestali, l'ipotesi di inquinamento dopo gli esposti. Vediamo la fotonotizia. Sulmona, le scuole in piazza con Libera contro tutte le mafie. Corteo con oltre 1500 studenti. L'Aquila, garage esploso, stavo facendo bricolage. Forse una scintilla la causa di questo incendio. Poi Avezzano, trattativa udici rebus del quindicesimo consigliere. Si parla della cronaca politica e amministrativa al comune di Avezzano. E poi, marito arrestato, volevo far paura a mia moglie, cerchio amante al coltellato. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. L'apertura è dedicata alle indagini per l'omicidio di Alessandro Neri. I parenti dico, chiarite tutto, il giallo di Pescara. La mamma di Alessandro parla alla trasmissione La Vita in diretta e dice non ho elementi per accusare la mia famiglia, però al mio fratello chiedo di tornare. Si indaga sulle amicizie. E poi la cronaca. Arrestato a Roma, il terzo uomo della rapina in Villa Pescara Colli di qualche tempo fa, sotto accusa le bande dei campi nomadi. E poi vedete a centro pagina il caso, a Teramo protestano anche le statue, la richiesta di verità sugli sversamenti pericolosi. E poi Pescara, tentata estorsione al governatore, super teste nei guai. E poi andiamo più in basso, l'Aquila, 30 richieste di danni. Questo è il conto per le buche. Vediamo in alto invece altri argomenti, richiami di argomenti e di notizie che troveremo all'interno del giornale. Partiamo da Pescara. Diodati ridiscute il dopo Civitarese su Via Marconi e piste ciclabili. Parla il neoassessore Giuliano Diodati rientrato in giunta a Pescara. E poi Avezzano, maggioranza allargata, così l'Udc risolve la crisi in comune. E poi il richiamo che riguarda il Teramo, che perde al fotofinish con il Sud Tirol. E si complica la vita. L'ultima pagina, prima pagina che vediamo, è quella del quotidiano La Città. Vedete il titolo di apertura, condannata la bancaria infedele. E poi riaperto il giallo sulla morte di Giulia, il giallo di Tortoreto. Mancano le analisi sulle impronte del Cavalcavia. E poi si parla di politica, Teramo al voto, di Sabatino Dubbi sul mandato esplorativo. E poi, se questo è il percorso, noi civici siamo fuori, lo dice l'ex assessore regionale di Dalmazio. E poi in basso si parla del Teramo. Sgarbi segna il Teramo nel finale. Diavolo KO contro il Sud Tirol. Ieri pomeriggio a Bolzano. Abbiamo visto tutte le pagine, le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Vediamo ora invece, nell'ambito dell'edicola nazionale, le prime pagine quotidiani oggi in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera. La politica in primo piano. Presidenze. Berlusconi in vita di Maio. Vertice con i leader. No del PD. Dubbi del Movimento 5 Stelle. Si parla ovviamente delle presidenze di Camera e Senato. E poi Zuckerberg cede. Colpa mia, il capo di Facebook, sui dati venduti. Commessi errori. Dobbiamo correggerli. E poi bufera in Vaticano. La lettera ritoccata. Si dimette il responsabile, ormai ex prefetto della segreteria per la comunicazione del Vaticano. Monsignor Viganò, che vedete nella foto con Papa Bergoglio. Andiamo a vedere anche Repubblica. Destra Movimento 5 Stelle e gelo sull'accordo. Elettori Grilini contro Berlusconi. E poi, vedete a centropagina, l'intervista al regista Steven Spielberg. I film sono come figli, mi fa paura. Il far west dei social. E poi in basso anche Repubblica parla del nuovo scontro in Vaticano. Viganò si dimette, ho sbagliato, sulla lettera di Ratzinger. Andiamo a vedere anche il fatto quotidiano. Senato Berlusconi non riesce a trovare uno di Forza Italia incensurato. Questo è il titolo di apertura del quotidiano. Il fatto. E poi a centropagina, l'ONU contro Minniti e il liberale. La polizia che decide vero e falso. Andiamo a vedere anche la prima pagina nazionale del messaggero. Camere, i nuovi nomi dopo Iveti. Via libera del centrodestra per Forza Italia al Senato. Stop del Movimento 5 Stelle a Romani. Avanza Bernini. 5 Stelle puntano su Fraccaro. Oggi il vertice finale. Ma Di Maio non vuole. Berlusconi. E poi Facebook ha sbagliato. È colpa mia la missione tardiva di Zuckerberg. E poi anche sul messaggero. La lettera tagliata scuote il Vaticano. Lascia Monsignor Viganò. Siamo al mattino di Napoli. In alto l'inchiesta sui femminicidi. 1600 orfani in 12 anni. 8 su 10. Hanno visto la madre morire. E poi Camere. L'intesa avanza. Senato a Forza Italia. Montecitorio al Movimento 5 Stelle. Salvini accetta e tiene unito il centrodestra. Vedete questo il titolo che riguarda la politica. E poi di spalla altri due articoli che ritroveremo poi al centro. I lettori del mattino ritroveranno all'interno del giornale. Il datagate. Zuckerberg chiede scusa. Troppi errori. È colpa mia. Il caso in Vaticano. Lettera tagliata a Ratzinger. Monsignor Viganò si dimette. Il manifesto Zuckerberg. Abbiamo sbagliato. Facebook Gate. Il caso Cambridge. Analitica nel titolo di apertura. E poi Foglie di Fico. Vedete il titolo come sempre che gioca sui nomi e sulle rime. In questo caso si parla di centrodestra. Vedete Berlusconi e Salvini. Perché per Montecitorio ci sarebbe il Via Libera al grillino Roberto Fico. Gradito anche al Partito Democratico. Il sole 24 ore. Allarme social network. Così insidiano le borse. Zuckerberg, il patron di Facebook, dice sono responsabile. Prima class action contro Facebook. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano. La verità. In alto si parla di quello che è accaduto nelle ultime ore. a città del Vaticano. La vendetta di Ratzinger. Salta Monsignor Vigano, responsabile della comunicazione vaticana. Che ha manipolato a favore dell'attuale Santo Padre. Una lettera critica del Papa Emerito. Ovvero Ratzinger. E poi a centropagina. La mina del PD. Sotto l'asse Movimento 5 Stelle. L'accordo tra Di Maio e Salvini sembra reggere. Ma con il coinvolgimento di Berlusconi nei partiti le basi sono in fermento. E tutto può saltare. La stampa di Torino. Berlusconi a Di Maio. Trattiamo. Mossa dopo il vertice del centro-destra. 5 Stelle. Non voteremo. Indagati. E poi le guerre segrete per il controllo dell'acqua. Vedete a centropagina. Quella di oggi è la giornata mondiale. Rapporti di ONU e CIA. mettono le risorse itrighe in cima alle emergenze del pianeta. Siamo al tempo. Vedete il titolo di apertura. Bella ciao. La liberazione. Scrive il quotidiano Il Tempo. Domani la partigiana Boldrini non sarà più presidente dopo 5 anni allucinanti a Montecitorio. Ora andrà bene chiunque. Il titolo sicuramente provocatorio del quotidiano Il Tempo. Il giornale vietato curarsi negli ospedali migliori. Non ci sono più soldi. Vedete questo è il titolo di apertura. E poi libero. 7 miliardi nostri buttati nel cesso del Monte Paschi. Anche in questo caso un titolo un po' forte di libero. Si parla della vicenda del Monte dei Paschi di Siena. E poi perfino i papi litigano. Sembrano politici. Ratzinger furioso per tagli galeotti alla propria lettera. Ne ha fatto le spese. Monsignor Viganò che come abbiamo visto si è dimesso il secolo d'Italia. Il selato a noi perché è vicina la nomina di un esponente di centrodestra alla presidenza del Senato. Siamo al secolo XIX. Il quotidiano di Genova. G8 e torture. Polizia e CSM contro Zucca. Vedete questo è il titolo di apertura. Il parallelo con l'Egitto e Reggiani. La rabbia di Gabriele. Accusa infamanti. Il PM della Diaz. È tutto nelle sentenze. E poi Genova. La fiera. In vendita ai privati. La scelta del comune. C'è il palasport. Escluso solo il padiglione. Jean Nouvel. Siamo al quotidiano della CEI. Avvenire. Usciamo insieme dall'inverno sociale. Questo è il titolo di apertura. Che fa riferimento alle parole del presidente della CEI. Galantino. La nuova maggioranza. Ascolti. Dice Galantino. I bisogni della gente. E poi le presidenze di Camera e Senato. Figo alla Camera. Movimento 5 Stelle al Senato. Frena su Romani. Di Forza Italia. Avvenire all'ultimo quotidiano dell'edicola nazionale che abbiamo preso in esame. Ora ripartiamo dal centro. Torniamo alle questioni di cronaca abruzzese. Sabato e domenica con il FAI. Tornano le giornate del FAI. E l'Abruzzo scopre 49 luoghi belli. Castelvecchio su Beco. Catacombe aperte per la prima volta. A fara San Martino. Un'escursione alle sorgenti del fiume verde. E poi il sopralluogo dell'Enea all'interporto di Manoppello. L'impianto di fusione termonucleare. Ricorderete la notizia. La conferenza stampa dell'altro giorno. In cui la regione aveva avanzato la propria candidatura per ospitare proprio all'interporto di Manoppello. Questo impianto di fusione termonucleare dell'Enea. Abruzzo in corsa con altre otto regioni. E siamo ai dati sulla balneabilità. La regione ufficializza. I divieti sono 10 lungo tutta la costa. Ma i dati nel complesso sono positivi. Lo ha detto anche il sottosegretario alla giunta regionale con delega all'ambiente. Il Mario Mazzocca con il 70% di acque balneabili con il voto eccellente. che salgano ad 85% se si considera anche il giudizio buono. Solo il 7% sono acque scarse. Ma noi allora andiamo a vedere il primo servizio. Perché ieri abbiamo proprio ascoltato al termine di questo tavolo di monitoraggio sulla balneazione nella nostra regione il sottosegretario Mario Mazzocca. Vediamo. Migliora la qualità delle acque di balneazione in Abruzzo. La buona notizia è arrivata questa mattina dal tavolo tecnico di balneazione convocato dal sottosegretario alla giunta regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca. Il 70% delle acque di qualità eccellente con la percentuale che sale all'85% con il giudizio buono. Solo il 7% delle acque esaminate è di qualità scarsa. Le dati impensabili due anni fa che sicuramente risentono anche del benefico effetto dell'inverno tutt'altro che tragico e perfido come quello del 2017, ma che evidentemente risentono anche di buona parte di quei 89 interventi per 170 milioni di euro di investimento l'abbiamo fatto sui nostri depuratori, il 60% dei quali sono entrati in funzione già da qualche tempo. I punti in cui la qualità è stata definita scarsa, che sono tutte vicine alle focile di alcuni fiumi, risentono della particolarità della costa abruzzese, che per esempio si discosta quella a Terramano, laddove per 150 metri a destra e a sinistra le focile di fiumi non sono state rilasciate concessioni. Noi siamo obbligati, come per legge, a effettuare i prelevi laddove c'è il rilascio di concessioni demaniali per l'abbalenazione. Dobbiamo ancora superare alcune criticità, come per esempio le tre procedure di infrazione ereditate dal governo Chiodi, da cui stiamo progressivamente uscendo, che riguardano i laboratori di Ranciano, di Pescasseroli e altri 14 laboratori più piccoli di realtà urbane e modeste di paesi. Nel 2017 i collaboratori di Arta hanno effettuato circa 1000 cambiamenti e con successive analisi al distretto di Pescara dei laboratori. Poi i dati provenienti dall'analisi delle campionature vengono trasmesse alla Regione, al Ministero e dai comuni interessati. Quindi l'attività di Arta si basa su due momenti essenziali, le campionature con i prelievi e poi le analisi in laboratorio. Iniziamo ad aprile in realtà con degli esami preliminari e poi la stagione inizia da maggio per proseguire per tutta l'estate fino a settembre. Parliamo ancora di ambiente di scarica di bussi. Vedete il titolo in grigio a fondo pagina. Finalmente si sblocca l'iter della bonifica. E poi ci sono le pagine di cronaca nazionale di politica. La prima che riguarda proprio le nomine a Senato, le presidenze di Senato e Camera. Romani al Senato, la Camera al Movimento 5 Stelle. Ma come abbiamo visto ci sono ancora polemiche e dissenze. Arriviamo alle cronache dalle regioni. La sentenza li riabilita totalmente. Siamo alla vicenda Rifiutopoli. Tutti assolti. Dopo otto anni l'ex assessore Venturoni era stato arrestato con Di Zio. Oggi finisce un incubo. Crolla l'accusa anche per Di Stefano. Questo è il titolo di apertura. E poi di fianco il caso inceneritore. Inceneritore gli ambientalisti in soccorso di Mazzocca. Se ne è parlato ieri in una conferenza stampa che Lega Ambiente Abruzzo e WWF hanno tenuto a Pescara. Hanno ribadito le associazioni ambientaliste il no alla costruzione di un inceneritore nella nostra regione. Allora possiamo andare a vedere il servizio. Un documento amministrativo si può sviluppare meglio nel tempo. Però c'è il fatto che da anni, da sempre, la regione Abruzzo approva i propri piani regionali dei rifiuti con provvedimenti di legge. E come mai non se ne accorgono mai nessuno a Roma? Se ne accorgono soltanto oggi quando il piano prevede il no all'incenerimento. E questo ci lascia molto molto perplessi. L'inceneritore non risolve nessun problema. Allora, quando si manda il materiale a incenerimento, intanto c'è da precisare che c'è un residuo di ceneri che va dal 15 al 30% secondo il materiale incenerito. E questo residuo va a finire comunque in discarica, peraltro in discarica speciale. In più c'è uno svantaggio aggiuntivo enorme per le popolazioni perché non esistono filtri capaci di eliminare ogni rischio. Gli inceneritori, e ci sono migliaia di studi medici che lo dimostrano in tutto il mondo, gli inceneritori producono danni all'ambiente e danni fisici alle persone che hanno la sfortuna di vivere nelle zone in cui ricadono i fumi. Tra l'altro anche antieconomici, perché sono contro quello che dovrebbe essere la direttiva europea per i rifiuti, perché per funzionare hanno bisogno di grandi quantità di rifiuti. Man mano che si differenzia, le quantità diminuiscono, gli inceneritori funzionano sempre meno, sempre con difficoltà. In Italia diversi inceneritori non ce la fanno più, dovrebbero essere chiusi e noi vogliamo costruirne di nuovi, è una follia totale. L'Abruzzo, seppur con fatica e con qualche ritardo, il suolo sta facendo. La previsione già dell'anno scorso ci consegnava quasi il 50% di comuni al di sopra della soglia del 65% di raccolta differenziata. Sicuramente ci aspettiamo un passo in avanti per il 2018, ma la vera battaglia, la vera sfida va vinta con i comuni più importanti, tra cui anche Pescara che da oltre 20 anni cerca di realizzare un impianto di compostaggio. Ci aspettiamo che in questa situazione che si è creata si porti a termine una soluzione ottimale affinché questo possa essere realizzato. Siamo consci che si vive un momento particolare tra il cambio di governo nazionale e le future elezioni regionali, però non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo che è quello di mantenere un Abruzzo vivibile, quindi che non necessita di inceneritore e di ulteriori discariche, ma che difenda questo piano per quanto riguarda il pezzo dell'economia circolare, perché è l'unico strumento che ci permette di uscire fuori da questa difficoltà. Siamo ancora alle pagine del centro, si parla di sanità in basso, vedete parla il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pettinari, vi spiego perché la sanità non va, il consigliere dice la regione autorizza gli ambulatori privati, ma non potenzia il servizio pubblico. Verso il voto delle regionali, Gerosolimo gela tutti, no a Lolli, no a Pagano, il leader della lista civica Abruzzo, insieme dribbla centrodestra e centrosinistra. E Paolini critica il rinvio ad aprile del Consiglio. Andiamo ancora avanti, siamo a Pescara, il delitto di Alessandro Neri, una 500 rossa ripresa in centro dopo l'omicidio, il 6 marzo un'auto identica a quella di Alessandro, è passata in Viale Regina Margherita. Rapina in villa, preso il terzo bandito, l'indagine della squadra mobile proviene da un campo nomadi di Roma, il 6 febbraio fece eruzione nella villa di Lucia Canta ai Colli, con tre complici. Proseguiamo, Tari, prima rata entro il 31 marzo, il Comune invia 70 mila bollettini, parte la corsa ai versamenti della tassa sui rifiuti. Nei mercati arriva il tablet che controlla gli operatori, vedete il titolo di spalla. Stop alla stangata sui passi carrabili, il centrodestra annuncia un ordine del giorno per bloccare gli aumenti stabiliti dalla provincia. E poi in basso, rumori allo spazio, scontro in commissione residenti contro i giovani del centro sociale. La cronaca, rapina all'idol all'ora di chiusura, paura nel supermercato di via Colle Renazzo, il bandito ricercato fino a tardi dalle forze dell'ordine. Ater, Basile lascia il timone al suo posto, tre commissari, parliamo dell'Ater di Pescara, cambio della guardia all'azienda che gestisce le case popolari di tutta la provincia. Linari, ex sindaco di Torra dei Passeri, sale sul ponte di comando insieme a Santilli e Longo. E poi i controlli dei NAS, sequestrati 40 mila chili di Mangimi, vedete il titolo di fianco. Ci spostiamo più in basso, domani al Flaiano il musical sull'arcivesco Romero, il sacerdote di San Salvador ucciso nel 1980. E da oggi negli uffici e postali di Pescara sono disponibili Franco Bolli dedicati a Impastato e a Don Puglisi, Peppino Impastato e Don Giuseppe Puglisi, eroi del nostro paese contro la mafia. L'AIL mandata via, l'ospedale risponde, normale rotazione tra le Ollus, il presidente dell'AIL Cappuccilli, non ci fanno vendere le uova il direttore amministrativo, l'autorizzazione era per sette giorni. Andiamo ancora avanti, siamo alla pagina di Montesilvano, sempre dalle colonne del centro, promossa Montesilvano, è tra le 15 spiagge più belle, per la prima volta la città entra nella prestigiosa classifica del motore di ricerca, Sky Scanner. e la città ottiene anche la bandiera gialla per le bici, riconoscimento della FIAB a Montesilvano e poi la cronaca invece, sempre a Montesilvano frontale in galleria, due feriti ieri mattina all'interno della galleria, i pianacci. Ancora Montesilvano, incendio vicino alle case, distrugge un deposito, paura in eviatavo, in fumo materiale in plastica e casette di legno. E in basso, lo spaventa, il liceo di Città Sant'Angelo celebra la lunna campionessa, si tratta di Patrizia Borgheggiani, che è campionessa nel pugilato femminile. Buona spesa per Pasqua alle famiglie indigenti, siamo a Francavilla al mare, il comune eroga aiuti economici a coloro che hanno redditi bassi, le domande entro il 26 marzo. Ancora Francavilla, apprezzamenti su Facebook per le dimissioni della Ferri, il caso discount, sempre a Francavilla, e poi a centropagina, mareggiate, gravi danni agli stabilimenti, Padovano della Sib, Francavilla tra le più colpite, la regione dichiari lo stato di emergenza. Andiamo in basso a San Giovanni Teatino, riciclocarta, visita agli impianti della ICO, e poi a Piazza San Rocco, siamo sempre a San Giovanni Teatino, un'ora di buio con il WWF. Proseguiamo, ci spostiamo nella Val Pescara e nell'area Vestina, partiamo da Manoppello, l'autovelox spaventa anche gli autisti dei bus, la panoramica ha chiesto e ottenuto un nuovo percorso per evitare di passare al semaforo che in sei mesi ha prodotto 19.000 multe. E poi all'anno, lagri di sigarette, ripuliti quattro bar nella stessa notte. E poi a centropagina, meccanico abusivo nei guai, finanzieri di popoli, sequestrano i macchinari denunciato, appenne rubati cinque cani da caccia al cinghiale, valgono 20.000 euro. Siamo alla pagina di Chieti, del quotidiano Il Centro, contributi per la casa, quattro condanne, sentenza sul comune, ex dipendenti sotto accusa, falsificarono la richiesta della figlia di una funzionaria per farle avere un contributo di 4.800 euro. E in basso, la sanità ha creato all'Ateneo d'Annunzio di Chieti il farmaco antitumori, i ricercatori guidati da sale inventano una medicina che arresta la crescita delle metastasi. Siamo a Cupello, dramma nel centro del Vastese, trovata morta in casa dopo tre giorni, la 65enne non dava notizie da domenica, colta da valore, caduta a terra, l'autopsia chiarirà la causa e il giorno del decesso. E poi a Monteodorisio, omicidio Lizzi, dopo 48 giorni, l'assassino non ha ancora un nome. Lanciano nasconde la droga sotto al letto, arrestata una ventisentenne nel Lancianese, per la precisione, a Frisa. e poi agricoltura, oltre 1.500 infortuni l'anno, secondo i dati dell'INAIL in provincia di Chieti, avviene un decesso ogni due mesi. Siamo ancora in provincia di Chieti, ad Ortona in questo caso, abitazioni senza acqua, lavori dopo le proteste, a Tollo, appalto rifiuti alla Ecolan, scontro tra Leve e Radica, Ettore Leve e Angelo Radica. Ci spostiamo più a centro pagina, nella scarpata 15 quintali di rifiuti, la scoperta a San Vito, la polizia locale dà la caccia agli incivili per multarli. Ancora Ortona, Coletti, il comune partecipi, chiede al bando per le nuove telecamere. Poi in basso, sul trabocco, il film con De Luigi, Fossa Cesia, di Giuseppe Antonio, il primo cittadino, un'occasione di promozione per tutto il territorio. Pagina di Teramo del centro, il titolo di apertura riguarda la cronaca giudiziaria, conti svuotati, la bancaria patteggia. Si tratta di un anno e sei mesi per l'ex impiegata della BNL accusata di furto aggravato. E poi, droga della camorra in aula ai testi, pagavo mille euro al mese per le seratine con la cocaina in basso. Questa notizia tragica che arriva da Alba Adriatica, esce dal circolo, si sente male e muore. Il 42enne stava riprendendo la bici, inutili anche i soccorsi con il defibrillatore. Siamo alla pagina di Roseto, Mariana Legale, sequestrata in una tabaccheria Blitz della Guardia di Finanza. E poi a centro pagina, ospedale a fuoco quattro auto, Atri rogo nel parcheggio del San Liberatore, innescato da un cortocircuito. In basso ancora Roseto, cade un palo della luce sul lungomare Trieste. E poi da Roseto a Pineto, raccolti quasi 13 mila euro per la ricerca di Teleton. Proseguiamo, siamo ad Atri, si parla delle amministrative, il PD verso una lista civica per contrastare il centrodestra. E sabato ad Atri, ora della terra, concerto e luci spente in centro. Silvi sarà inaugurato sabato l'infopoint dei simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. In basso, ricorso al TAR per la discarica, raffiche di critiche al Consorzio. Siamo di nuovo ad Atri, mentre a Pineto via alla tutela delle dune costiere. Siamo alla pagina dell'Aquila del centro, Cagnano Amiterno, cementificio, ora indaga la procura, al vaglio dei carabinieri forestali, l'ipotesi di inquinamento. E poi, restauri a Palazzo Centi, inchiesta chiusa, restano indagati per falso tre funzionari regionali. E poi ad Arischia, l'esplosione causata da una scintilla, l'uomo ferito nel garage, ha detto ai carabinieri che stavano facendo lavori di bricolaggio. Ieri vi avevamo proposto anche un servizio della nostra redazione aquilana nel corso del telegiornale. Siamo a cerchio, volevo solo spaventare mia moglie l'amante arrestato per aver accoltellato l'uomo scoperto a letto con la sua consorte, il 49enne, dal carcere dice, o aggredito nella colluttazione. Lui si è tagliato. E poi, udienza a settembre, la vicenda della badante uccisa a Carsoli, giudizio immediato per il muratore. Siamo all'Aquila, il baffo di Zaffiri sulle maglie, l'Aquila Rugby Club presenta le nuove divise con il simbolo dell'ex presidente. In basso sul Mona, colori e canti contro tutte le mafie, oltre 1.500 studenti sfilano in corteo con Libera durante la giornata in memoria delle vittime. Siamo arrivati allo sport, possiamo lasciare le pagine del centro, fermarci per qualche attimo, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio, siamo alle pagine dell'inserto Abruzzo del Messaggero, pagina 2, si parla della battaglia per l'ambiente, dietro l'inceneritore un partito trasversale, WWF è l'ambiente all'attacco dopo lo stop al piano della regione da parte del governo, abbiamo prima visto il servizio e ascoltato le dichiarazioni di Luciano Di Tizio del WWF di Giuseppe Di Marco di Lega Ambiente, l'Aquila dopo il sisma, Palazzo Centi ad aprile, il via e i lavori, poi in basso tentata estorsione ad Alfonso nei guai il test di Maremonti e poi rifiutopoli l'appello per Di Stefano, Venturoni e Di Zio confermate le assoluzioni. Siamo alla pagina di Pescara del messaggero, mi ha detto esco e non è più tornato, Laura Lamaletto, la madre di Alessandro Neri, ricostruisce in TV le ultime ore del figlio, voglio verità ma non ho elementi per accusare nessuno, rapina in villa, preso il terzo uomo e poi in basso i gesuiti si trasferiscono dai frati nel convento, un centro per minori, il convento dei gesuiti in via del santuario a prensione tra i fedeli dopo l'annuncio del trasloco, siamo nella zona di Pescara-Colli, niente senso unico su via Marconi, lo dice il neoassessore del comune di Pescara alla mobilità, Giuliano Diodati, che fa il punto anche sull'eredità dell'ex assessore Stefano Civitarese, ha fatto un ottimo lavoro, non è vero che cancello tutto, e poi uova dell'Aile sfrattate da ematologia e polemica, e poi la pioggia riapre le buche ma nessun allagamento a Pescara, in basso autismo, cena delle rotari con chef stellati ai fornelli, e poi il vernissage, io e Giorgio la segna d'arte, firmata, rosato e ciarcelluti, siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara, a Montesilvano in particolare, capannone a fuoco, notte di terrore nella cittadina adriatica, e poi bandiera gialla per reciclabili e spiaggia d'oro a Montesilvano, traguardi importanti per la città in provincia di Pescara, e poi meccanico sconosciuto al fisco, lavorava in un'officina abusiva, sequestro e multa, in basso, post sul supermercato MD si dimette l'assessore Ferri a Francavilla, e poi il premio Ferrante, si parla di optometria a Domenico Brigida, vedete il titolo in basso, processione a penne con il Cristo di pezza per quanto riguarda le cerimonie della settimana santa. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila, del messaggero, aiuti alle famiglie in difficoltà, soldi a 200 nuclei in più, l'amministrazione comunale ha deciso di alzare la soglia ISE a 6 mila euro, aumentando la platea di Aventi diritto. Fondi alla cultura si cerca di aumentare la somma, in basso, Salvini denuncia Coccia con l'aiuta, ma non può partecipare all'udienza, e poi esplosione in garage, solo bricolage, la versione dell'anziano che era all'interno del garage di Arischia, dove c'è stato un incendio, e una piccola esplosione, buche, 30 richieste di risarcimento, vie Colabrodo, primo bilancio dell'emergenza legata alle condizioni del manto stradale all'Aquila, scuole chiuse, in rete cittadini, divisi, e poi la processione Cristo morto, scorta d'onore alla Prefettura, e poi il Museo delle Ceramiche per il FAI d'Antonio, si tratta di otto secoli di storia. Siamo alla pagina della Marsica e della Valle Peligna, iniziamo con Avezzano, l'Udc annuncia la crisi è risolta, in un lungo documento firmato dal segretario cittadino Leonardo Rosa, si sollecita anche l'apertura ai civici. Ancora Avezzano, il Vescovo accoglie ieri trei, ma c'è chi critica, Castel di Sangro, Pinacoteca Patiniana, ecco un altro capolavoro. Siamo a Sulmona, oltre 1500 giovani al corteo per le vittime della mafia e poi il parco fluviale da olio all'abbandono la denuncia a Sulmona con tanto di fotografie dell'ex assessore Stefano Goti. Cerchio, accoltelamento per onore, domani dal GIP la convalida e poi ad Avezzano donna denuncia mi hanno violentato. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero comune in quattro condannati soldi alla figlia della Rapattoni, leggiamo da questo titolo di apertura della pagina di Chieti del messaggero e poi la maxitruffa dei finti biglietti della Juventus il caso è arrivato davanti ai giudici decine le vittime e poi in basso caso Di Pietro e sul Taflacco ora siamo due a zero andiamo a vedere la pagina di Lanciano Vastortona del messaggero indagato il primario della dialisi il procuratore siamo a Vasto Di Florio ha aperto l'inchiesta dopo un esposto nel mirino finisce l'attività del medico dell'ospedale San Pio ancora Vasto discarica rifiuti speciali Vallecena ricorre al Tar e poi Lanciano droga e furti di slot arresti e denunce vedete il titolo di spalla siamo ancora a Lanciano vicenda concorsi alla Sasi basterebbe dice tutto regolare ancora Casomoro il successo del piccolo resto strapieno il teatro Fenaroli per questa per questa rappresentazione infine ci spostiamo a Dortona Fontane e Lavatoi via alla riqualificazione siamo alla pagina di Teramo del messaggero Gran Sasso ora per l'acqua protestano d'annunzio e e company l'osservatorio dieci mesi dall'ultimo sversamento fatto nulla per la sicurezza e poi rapine usura 1000 euro di coca al mese per i festini e poi ancora svuote i conti dei clienti bancaria condannata in basso comunali PD e Lega a caccia di convergenze verso il voto si parla delle amministrative al comune di Teramo siamo a Giulia Nuova pensionato stalker in gattabuia il PM convalidare l'arresto o il braccialetto elettronico per il presunto molestatore della 47enne e poi Atri in fiamme 4 auto nel parco dell'ospedale e poi Giulia Nuova origami del pensiero stasera a teatro il varietà dei ragazzi del centro diurno ancora Giulia Nuova cade nella buca sul lungomara e si fa male voglio 21.000 euro di risarcimento in basso 50 tonnellate di mangimi a rischio in asse scoprono aziende e depositi abusivi e poi Roseto cade un palo della luce terrore in strada e poi ancora Tortoreto buoni pasto due indagini il buco è di 160.000 euro siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo attendere per parlare di sport perché andiamo a vedere insieme prima le pagine interne del quotidiano la città ripartiamo dalla cronaca regionale in questo caso l'inchiesta rifiutopoli Venturoni assolto anche in appello assoluzione piena per l'ex assessore regionale alla sanità per Rodolfo Di Zio e per Fabrizio Di Stefano le previsioni il tempo il meteo anche per oggi ma il tempo e neve a quote basse in tutta la regione e poi la sentenza della consulta popolare di Bari riprende la trasformazione in S.P.A. andiamo ancora avanti a manchi alla BNL 18 mesi di pena per la bancaria infedele in basso bivacchi e vandalismo notturno nell'antica cattedrale in piazza Sant'Anna a Teramo la polizia indaga per rintracciare i responsabili dei danneggiamenti siamo a pagina 5 del quotidiano la città abruzzesi illustri in campo per l'acqua sicura l'osservatorio indipendente ha dato voce a 4 busti dei tigli per protestare contro la regione e poi Teramo corsi di abilitazione dell'ACI per formare commissari e verificatori centro-sinistra al voto parliamo delle amministrative di Teramo di Sabatino dubbi sul mandato esplorativo lui vorrebbe rinunciare ma il PD lo prega di restare chiedendogli di tentare la carta delle primarie e poi elezioni occasione per archiviare il modello Teramo endorsement a Gianguido d'Alberto da Andrea Core del forum giovani ancora avanti centro-destra al voto se questo è il percorso noi civici siamo fuori di Dalmazio ribadisce il no al modello Teramo riciclato pronti a correre solo con chi condivide un progetto serio ma noi andiamo a vedere il servizio ora che fa il punto proprio sulle amministrative di Teramo in casa centro-destra il servizio realizzato da Ania Cantagalli appena Sant'Andrea oggi c'è il futuro candidato sindaco di Teramo per il centro-destra non lo so non credo nella tua persona ovviamente sono solo io appunto no non c'è quindi non c'è si stanno facendo riflessioni ragionamenti per offrire ai cittadini teramani una prospettiva seria di governo con una coalizione compatta omogenea con un buon candidato sindaco che possa restituire fiducia alla città e possa affrontare le emergenze di cui tutti parlano ma che poi vanno affrontate in concreto gli attuali candidati cosa ne pensa? Covelli ieri e Gian Guido D'Alberto che si è presentato? mi sembrano un po' troppi le ultime elezioni politiche hanno insegnato che gli italiani quindi questo vale anche per gli abruzzesi e per i teramani non vogliono più sentire partitini piccoli listarelle Renzo Di Sabatino ha chiesto a Paolo Gatti se quest'oggi appena a Sant'Andrea c'era il futuro candidato sindaco del centro-destra mi ha detto di no posso chiedere a lei se c'è il futuro candidato sindaco di centro-sinistra per il comune di Teram? Gatti le ha detto di no? Esatto le dico di no anche io allora però così non pare visto che sta avviando delle consultazioni all'interno dell'area del centro-sinistra io non ho mai detto sì a una mia candidatura ho ringraziato e ho detto verifichiamo qual è la situazione perché le candidature non devono soddisfare la persona che riceve la proposta le candidature devono avere delle gambe per camminare se ce le hanno bene se non ce le hanno no in questi giorni sto valutando tutte le situazioni e opzioni possibili stasera c'è una direzione molto importante del Partito Democratico in cui diciamo riferirò l'esito diciamo di questo giro le mie considerazioni e anche le mie valutazioni per il proseguo Qual è lo stato del centro-sinistra attualmente a Teram? Confuso molto confuso però Renzo Di Sabatino sarebbe pronto nel caso fosse designato ad essere candidato sindaco? Da chi? Da qualcuno Renzo Di Sabatino sarebbe pronto se intorno alla sua figura ci fosse una coalizione con un programma un progetto e molte delle idee che stanno emergendo sono assolutamente accoglibili ma che diciamo abbia un senso anche di governo perché non è tanto importante vincere ma il giorno dopo le elezioni bisognerà iniziare ad amministrare un comune che è in una situazione sicuramente non ottimale che ha bisogno di essere amministrato ecco io vorrei che tutti cominciassero a riflettere anche sui profili degli amministratori che verranno stiamo parlando della città di Teramo le cui sorti sono importanti per sé e per tutta la provincia alla microfono di Ania Cantagalli anche l'esponente di centro-sinistra attuale presidente della provincia di Teramo Renzo di Sabatino dunque il punto in questo servizio proprio a poche settimane dalle amministrative di Teramo e noi restiamo in argomento il pretesto pagano che divide il centro-destra i civici vorrebbero sganciare morra e lega da Forza Italia ipotesi corsa separata per poi riunirsi al ballottaggio e in basso rifiuti Canzio propone di cambiare il sistema porta a porta a Teramo concorso per infermieri verso 70 assunzioni ieri a pescare la seconda prova per 549 candidati ammessi dopo il questionario andiamo ancora avanti la sovrintendenza ha sconfessato il consiglio teatro romano per il comitato referendario il progetto Bellomo non deve essere un bis di piazza Sant'Anna flash mob in Ateneo per le vittime di mafia ancora a Teramo i luoghi del campus invassi da nomi e storie delle persone uccise dalla criminalità organizzata siamo alla pagina della provincia sempre dal quotidiano la città acque eccellenti su gran parte della costa buone notizie per il territorio teramano dei dati dei campionamenti sulla balneazione dello scorso anno se ne è parlato ieri in occasione del tavolo tenuto proprio a Pescara e presieduto dal sottosegretario alla giunta regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca vi abbiamo proposto nella prima parte di questa rassegna stampa anche il servizio e poi sociale in basso nasce l'associazione Montorio 3.0 il nuovo gruppo sarà coordinato da Alfonso Di Silvestro a Montefino torna la passione di Cristo cento figuranti domenica a Villa Bozza il giallo siamo a Tortoreto il giallo della scomparsa della morte di Giulia di Sabatino prorogate le indagini per la morte di Giulia mancano gli esami del RIS sul terriccio e sull'impronta trovata sul cavalcavia dell'autostrada e poi cronaca blackout per Neve a Valle Castellana l'Elen installa due generatori a Tortoreto in basso si parla di problemi all'illuminazione che favoriscono i furti in casa impegno civico denuncia i disagi e chiede che fine abbia fatto il progetto paride giorno della verità per Mastro Mauro siamo a Giulianova il bilancio a proda in giunta con l'incognita del voto da parte del partito democratico e poi Antelli sul Tefa non è un debito ma un ammanco di milioni di euro dice Gianluca Antelli in basso cronaca giudiziaria l'accusa fa le pulci agli affari di Cacciapuoti siamo alla pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi partiamo da Pineto dove prende vita il mercato itinerante a chilometri zero dei piccoli produttori Atri alto a fuoco nel parcheggio dell'ospedale incendio generato da una perdita di carburante distrugge quattro auto e poi in basso solidarietà raccolti 13 mila euro a Pineto per supportare la ricerca Teleton ancora Roseto degli Abruzzi sistema d'allarme per i sottopassi rosetani progetto del comune per le sbarre intelligenti in caso di allagamento restiamo a Roseto da resto al sud un'opportunità anche per i giovani rosetani questo il progetto presentato e dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni in basso una mobilitazione contro il ricorso del piombafino associazioni pronte alla protesta per evitare l'ampliamento della discarica di Santa Lucia siamo la pagina della cultura la pietra è stampone le idee dell'arte a Foligno due mostre per omaggiare le opere dei maestri sabato l'apertura lasciamo anche il quotidiano la città torniamo al centro per aprire la pagina dello sport sport nazionale calcio e finanza vendita del Milan si muove la procura e poi domani parlando invece della nazionale italiana di calcio giocato Italia con il 4-3-3 contro l'Argentina siamo la pagina del calcio di serie B per parlare del Pescara un mese di stop per Falco e Bovo si ferma di nuovo doppia tegola per i biancazzurri e per il tecnico Epifani in vista della gara di domenica con l'Empoli l'attaccante e il difensore accusano ancora problemi fisici al tecnico servirà un'impresa contro la regina della serie B in serie utile da 16 partite il team toscano in testa alla classifica non perde davvero da oltre tre mesi squadra difficile da affrontare e poi leggiamo questa notizia in grigio archiviata la querela presentata dal socio di minoranza il GIP del tribunale di Pescara dice il presidente Sebastiani non ha diffamato i annascoli e poi sotto si parla dei precedenti tra Pescara ed Empoli precedenti non proprio incoraggianti ultimi scontri devastanti anche anzi per i biancazzurri dal 2013 ad oggi un pareggio e quattro vittorie dei toscani andiamo a vedere la pagina che riguarda la serie C il turno infrasettimanale del girone B distrazione fatale Teramo cade alla fine Biancorossi sconfitti per 1-0 in casa del Sud Tirola al Druso di Bolzano il gol vittoria per gli alto a Tesini realizzato da Sgarbi al 47esimo della ripresa dunque 92esimo tempo scaduto vediamo anche le altre gare della giornata di ieri Gubbio Renate 2-2 a tal proposito il Gubbio ha esonerato il tecnico Dino Pagliari dopo il pareggio con la formazione del Renate poi San Benedettese Vicenza 2-1 Fano Reggiana 0-0 Triestina Pordenone 1-1 Bassano Mestre 0-2 Padova Feralpi Salò 1-1 l'ultima partita Albinoleffe Fermana 1-0 l'amarezza di Palladini un'autentica beffa le parole del tecnico al 91esimo della gara di Bolzano Teramo che tornerà in campo nel prossimo turno per affrontare al Bonolis la Triestina e poi siamo all'eccellenza i quarti di finale di Coppa una giornata storta per il Giulianova che crolla in casa dell'Unipomezia formazione laziale che si impone per 3-0 e poi il calcio di Serie D verso il derby di domenica prossima al Gran Sasso d'Italia tra l'Aquila e Avezzano la società aquilana ha deciso di indire la giornata rosso-blu e poi il basket il basket di Serie A2 il grande ex Mei Roseto e Casamia vincerà chi saprà gestire la pressione domenica la guardia di Mantova affronterà gli Sharks e poi il calcio a 5 Acqua e Sapone e Pescara l'assalto della Coppa Italia appesano oggi le prime partite della manifestazione andiamo ancora avanti la pagina che riguarda gli altri sport sul centro Atletica sabato a Sulmona gli assoluti dei 10.000 metri e poi tanto Abruzzo nella settimana internazionale della Coppi e Bartali vedete in alto da oggi a domenica e poi altri titoli che riguardano il basket di Serie C Silver il Magic tra voglia di vincere e iniziative di solidarietà del Magic Chieti e poi in basso cheerleading l'Abruzzo vince il bronzo a Pescara nei campionati italiani l'Accademia Bianca Azzurra si piazza al terzo posto andiamo a vedere le pagine dello sport del Messaggero poi chiuderemo con quelle del quotidiano la città andremo a vedere anche il servizio sulla sconfitta del Teramo ieri a Bolzano col Sud Tirol ma ripartiamo dal Pescara Pescara scovati gli assi di domani Druda rientra dal Sud America Montevideo siamo un'autorità per aver valorizzato Torreira dice il dirigente del Pescara e intanto si parla anche del futuro futuro societario della società Bianca Azzurra Candeloro attuale patron del Francavilla punta anche su Pineto e Lugano il calcio a 5 Final 8 Alvia in campo Acqua e Sapone e Pescara siamo alla pagina la seconda pagina di sport del Messaggero Teramo sconfitto che beffa al secondo minuto di recupero Sgarbi trova il jolly Sud Tirol si impone per 1 a 0 non va bene neanche al Giulianova battuto nella Coppa Italia di eccellenza dal Pomezia per 3 a 0 e poi la mezza pagina relativa al calcio Wisp dedicata come ogni giovedì dal Messaggero all'Unione Italiana sport per tutti siamo alle pagine dello sport del quotidiano la città Teramo Sgarbi nel finale il diavolo KO al 92 nel match del Druso con il Sud Tirol possiamo dunque andare a vedere il servizio il beleno nella coda per il Teramo che in pieno recupero crolla al Druso di Bolzano per effetto della zampata di Sgarbi ancora decisivo il centrale del Sud Tirol già giustiziere del Vicenza venerdì scorso un finale amaro per un Teramo che era vicino al terzo pareggio senza gol consecutivo che sarebbe stato tutt'altro che da disprezzare rispetto alla gara con l'Albino Leffe Paladini non cambia modulo 3-5-2 ma a vicenda diversi uomini Milillo nel trio di difesa Graziano in mediana Fratangelo Bacio Terracino in attacco finiscono in panchina Ventola Amadio Gondo e Tulli nel Sud Tiroli il tecnico Zanetti deve rinunciare a Erlich durante il riscaldamento dentro Baldan le altre novità sono Candellone e Cia al posto di Giasi e Bro presenti l'ex Giuliese Vineto e gli abruzzesi Berardoc e Costantino il bomber degli alto tesini con 12 centri e che quasi diventano 13 al primo minuto ma prima della rete il centro avanti è giustamente fermato per offside una decina poco più i tifosi biancorossi che hanno affrontato la lunga trasferta infrasettimanale che non si esaltano davanti alla soluzione della distanza di Ilari al 14esimo ma che possono imprecare per la palla gol sciupata un minuto dopo da Varas Fratangelo è caparbio e sulla riga di fondo recupera e crossa un pallone che l'ex Lumezza ne cicca malamente la gara nel complesso offre poco il Teramo si copre bene ma fa fatica a costruire il Sud Tirol conferma quanto dicono i numeri squadra solida ma fase offensiva senza sussulti che non va oltre un tiraccio di Cia e una percussione di Frascatore solo nel finale di tempo si rianima una gara piuttosto piatta Teramo pericoloso da palla inattiva cross di De Grazia per l'incornata di Caidi neutralizzata da Offredi nell'unico minuto di recupero la girata di Costantino da ottima posizione su suggerimento di Tait precede di qualche istante il fisco di Lorenzin di Colignano Meneto che manda tutti all'intervallo ad inizio ripresa l'impressione che il Sud Tirol voglia accelerare conclusione di Finca al quinto di poco alta poco dopo sugli sviluppi di una punizione duro scontro fortuito tra Baldan e Bifulco provano a resistere ma vanamente così al quarto d'ora lasciano il campo a Bro e Calore contestualmente altri cambi Giasi per Candellone Gondò e Tulli per Fratangelo e Bacio Terracino il fronte d'attacco rinnovato non dà linfa ad un diavolo che pensa più a non prenderle per poi rischiare su un contropiede che Bro non riesce a finalizzare anche in questo caso il finale di frazione ravviva la partita De Grazia spara alto da lontano poi Graziano affonda e mette dentro per Gondò anticipato di un soffio della difesa alto a tesina la squadra di Zanetti cerca il colpo di Reni con un forcing finale che trova coronamento nella punizione di Gatto in pieno recupero difesa immobile controllo sospetto di Sgarbi che anticipa Calore e sigla il gol partita lo stesso Calore evita il 2-0 ma è un K.O. che fa malissimo al di là della pochezza offensiva del Teramo lo 0-0 avrebbe rispecchiato l'andamento del match che fa ripiombare i Biancorossi tra mille preoccupazioni mentre proietta sempre più in alto il Sud Tirol servizio di Andrea Costantini Palladini preso un gol da Poglia al 91esimo le parole del tecnico Biancorosso in basso Contento e Candussi anticipano invece siamo al basket la gara Mantua-Roseto chiudiamo con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali Gazzetta dello Sport indagine sul Milan la procura apre un fascicolo sul passaggio di proprietà e poi il calcio italiano come ripartire parla l'ex tecnico proprio dei rossoneri Arrigo Sacchi vediamo anche il Corriere dello Sport Juve io ci sono Emre Can apre un futuro in bianco-nero e poi Gigi contro tutti riparte l'avventura azzurra Di Biaggio un tecnico federale sfida messi ai giganti della panchina chiudiamo con tutto sport Piaca grande la Juve riavrà un campione questo è il titolo del quotidiano torinese che parla in particolare proprio della formazione bianco-nera di spalla vedete il caso Milan senza pace aperta un'inchiesta sulla cessione all'I e noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi del 22 marzo con Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi rinnovo l'appuntamento alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti